Nato come un mezzo di trasporto ma diventato nel tempo simbolo della Sicilia ed emblema per eccellenza del folclore isolano. È il Carretto Siciliano, che è il protagonista assoluto della manifestazione Terrasini tra storia, folclore e tradizione, il Carretto Siciliano, in programma nella cittadina palermitana fino a domenica 25 giugno. L'evento, realizzato con il patrocinio della regione siciliana, assessorato dai beni culturali e dell'identità siciliana, ha un obiettivo preciso, continuare l'opera di valorizzazione del Carretto Siciliano, progetto già avviato da qualche anno che nel frattempo ha visto il riconoscimento dell'arte del carretto tra le eredità immateriali dell'isola, ovvero l'iscrizione nel registro delle eredità immateriali della Sicilia. L'impegno soprattutto è quello di valorizzare, promuovere, fare conoscere a tutto veramente le nostre origini, le nostre tradizioni e la promozione del Carretto Siciliano. Quindi grande soddisfazione da parte dell'amministrazione, grande impegno e voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando a questo raggiungimento, così come voglio ringraziare l'assessore Scarpinato e i beni culturali che ha creduto nel nostro progetto, la regione siciliana che si sta impegnando per arrivare a questo obiettivo comune che è quello di promuovere il Carretto Siciliano a patrimonio dell'UNESCO, nell'interesse veramente della Sicilia, dei siciliani ma anche del nostro paese. Ricordare e mettere ancora nuovamente l'accento su quello che è stato un mezzo di trasporto ma che veicolava in sé la cultura popolare e anche il gusto estetico del siciliano è molto importante, oggi più che mai, perché si è capito, ma questo lo hanno detto tanti grandi studiosi, che chi non ha identità, chi non ha le radici, non riesce neanche ad immaginare un futuro. Grazie a tutti.